Ciao a tutti ragazzi, sono... Sono andata, oggi è mercoledì, sono andata da Chiara e sono stata brava E allora, oggi vi faccio questo video qua L'ho fatto già uno stamattina in quello blu Questo blu che io ho già filmato Io ho già filmato E adesso faccio questo Sperando che mia mamma È un librettino, non so capito che cos'è Sperando che mia mamma non mi venga in camera Non voglio che mia mamma Nel gioco Mi venga in camera Per il momento Perché poi nel momento non voglio che mia mamma Mi entra in camera Perché mi toccaccia le mie cose Mi irrito Invece così Adesso vedi che io sto cercando Quando sono a casa Sto cercando Ma vedi? Due via extro Anche qui ho due via extro Cioè praticamente Sono carte uguali Costo 20 euro Cioè Cosa tanto? 20 euro Ho riuscito a prenderli Le ieri No Buongiorno 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 Questa C'ho anche quella base Ragazzi Sì gli altri sono uguali Però ho anche quella base Quindi Ero contenta Ero contenta Sono contenta Perché Io volevo fare Dei video belli Ma C'è una cosa Ne avevo così voglia Ragazzi Che io sì Ok Quando Avevo i soldi Li compravo Ok Ma io prendevo i pacchetti Ragazzi Non Le scatole vere e proprie Dopo io dovrò scendere E buttarle Tanto Tanto quante persone Entrano qui Non può sapere Che se sono stata proprio io A A A A A prendere Cioè No Tanto papà lo sa Lo sa E' molto attento A mia mamma Perché Vedi Perché Vedi Mi è contento di poco Avere già una scatola Usando Bene La propria scatola Oggi dovrei vedermi Oggi pomeriggio Con il mio zio Marco Che è il gemello Si chiamava Leonardo Ma Leonardo è morto Comunque Comunque Dovrei vedermi con Zio Marco Io Inizierò Con un modo da Chiara A chiudere le porte A chiave La mia porta Della cameretta Sarà sempre chiusa A chiave Non mi interessa Comunque mi dice Mio padre Perché Io devo difendere Le mie cose E la mamma Non è nessuno Stargli a toccare Le mie cose Queste qua Era la scatola Che dovevo fare Stamattina Ma non sono riuscita Perché dovevo andare Da Chiara Adesso le faccio Poi oggi Mi farò un po' Di pasta Però Pasta ricotta Ma non adesso Più tardi Più avanti Io non voglio mangiare Più con mia mamma Perché rompe Mia madre Guarda che c'è Capito? Mi sono uguali Come ti ho detto Sono completamente Uguali 200 doppie Ragazzi Adesso chiuderò sempre La mia porta chiave Quando io non ci sarò Adesso solo Quando sono da Chiara Quando sono al lavoro No Perché La Natalia Me la deve fare La cameretta Quindi Non 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 posso E perciò Queste due Uguali Guardate Poveri Però Natalia guarda Mi ha fatto girare Le scatole Stamattina Lo sai che io voglio Fare il video Ho fatto una colazione Rapidamente Guarda Ho fatto una colazione Perché volevo fare Sto cazzo di video Ma poi Rompe Dice Dai Dobbiamo andare Dai Dobbiamo andare E poi Niente Vado Il video Sono riuscito A farlo Un po' più Rapidamente Ma sono riuscita A farlo Allora Ah E poi Ti dà Pure Questa Spilletta Carina Noi Come sempre Ci vediamo Un prossimo Video Ciao Stai Che bello Ehi